Salve a tutti, io sono Mr. Rob e quello che state per vedere è un recappone di John Wick, capitolo 4. Per quale motivo? Perché è finalmente uscito disponibile su Amazon Prime Video e siccome su questo canale io ho realizzato un recappone anche dei precedenti tre episodi, mi sembrava doveroso chiudere finalmente il cerchio. Se anche voi siete degli estimatori dell'uomo che una volta ha eliminato tre persone usando solo una matita, mi raccomando mettete like a questo video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella che poi fa tutto lei, cioè non dovete più star qui a controllare i video, vi avvisa lei quando escono i video nuovi che mi sembra delizioso e direi che possiamo cominciare. Ecco a voi il nostro John Wick nascosto sottoterra a New York in compagnia del suo amico e collega il re della Bowery per addestrarsi e prepararsi a far partire la vendetta ai danni dell'organizzazione criminale La Gran Tavola. Attenzione, dettaglio molto importante, tutti gli altri film di John Wick iniziavano esattamente dove si era concluso il precedente, era come un enorme flusso di avventure, invece qui c'è palesemente uno stacco temporale, è successo qualcosa fra il terzo e il quarto film che noi non conosciamo. Probabilmente lo spin-off cinematografico che uscirà l'anno prossimo, cioè Ballerina interpretato da Ana de Armas, partirà o avrà delle vicende che si innescheranno da qualcosa che avviene fra il terzo e il quarto film di John Wick, ne sono sicuro, ma andiamo avanti. Per prima cosa John Wick ritorna in Marocco per incontrare il reggente, ve lo ricordate? Era il tizio dei poteri superiori al quale si era rivolto consegnando la sua fede nuziale come pegno per tentare di trovare il modo di liberarsi da tutti i suoi obblighi criminali e siccome non può più recuperare la fede perché apparentemente non è più a disposizione del reggente, John Wick lo ammazza e l'omicidio di uno dei più importanti pezzi grossi nel mondo della malavita ovviamente è la goccia che fa traboccare il vaso. Infatti la Gran Tavola ha appena nominato il suo nuovo leader, il marchese Vincent de Gramont, che ha come unico obiettivo quello di sbarazzarsi una volta per tutte di John Wick. Quindi la prima cosa che fa è chiamare Winston, il proprietario dell'hotel Continental di New York, nonché amico e complice di John. Lo accusa di aver simulato la morte di John Wick pur di riottenere il reintegro delle sue attività ed effettivamente è vero e quindi ammazza il suo concierge, Sharon, fa radere al suolo l'hotel Continental di New York e scomunica ufficialmente Winston privandolo di tutti i poteri. Dopodiché il marchese assume il sicario perfetto per eliminare John Wick, cioè Kane, un assassino che ormai è cieco ed è anche un vecchio amico di John, ma per spingerlo a compiere quest'azione minaccia platealmente di ammazzare la sua giovane figlia. Ma dov'è finito John Wick? Si è rifugiato in Giappone, all'hotel Continental di Osaka, che è gestito da un suo vecchio amico Shimazu Koji e dalla sua figlioletta Akira. Rapida segnalazione, gli hotel Continental sono una catena a disposizione soltanto degli assassini, possono ospitare solo assassini e all'interno di quelle quattro mura non si può ammazzare nessuno, letteralmente, è zona franca, a meno che un'enorme organizzazione come la Gran Tavola scelga di togliere tutti i poteri all'hotel e a quel punto vale tutto. E infatti il marchese toglie l'immunità all'hotel Continental di Osaka e tutti gli uomini del marchese piombano all'interno per eliminare John Wick. Succede di tutto, c'è persino il primo scontro fra Kane e John, c'è persino l'intervento del signor Nobody, di una sorta di sicario misterioso senza nome che sta inseguendo John a sua volta per ucciderlo in Tascar nella taglia. John riesce a fuggire ma il povero Shimazu viene assassinato da Kane sotto gli occhi di sua figlia Akira che a questo punto giura vendetta. John è costretto a tornare a New York a chiedere aiuto al suo amico Winston solo per scoprire tutto quello che è successo a Winston e il fatto che ora l'ex leader dell'hotel Continental di New York sia furioso con la Gran Tavola e voglia schierarsi con John per distruggerla. Ed è proprio Winston che suggerisce una regola in uso nella comunità degli assassini da molto tempo, cioè se si hanno dei conti in sospeso con la Gran Tavola si possono risolvere sfidando il leader della Gran Tavola al duello. In caso di vittoria tutto verrebbe condonato. Certo, per poter fare questo lo sfidante deve essere il rappresentante di una famiglia criminale, altrimenti non è possibile farlo. John potrebbe approfittare di questa opportunità se non fosse che lui ha tagliato completamente i ponti con la sua famiglia criminale russa nel terzo film pur di ottenere il biglietto che gli avrebbe permesso di raggiungere il reggente in Marocco. E qui mi sobbiano un dubbio, se questa regola è in auge praticamente da sempre, perché non l'hanno usata con Scamarcio nel secondo film? John lo avrebbe sfidato a duello e avrebbero risolto tutto senza fare altre due pellicole. Oltretutto all'epoca John faceva ancora parte della sua famiglia russa, avrebbe potuto essere nel rappresentante, filava tutto e invece no. Ci siamo scordati sta regola, ce la siamo inventata soltanto nel quarto film e adesso è un casino. Allora John deve a questo punto tornare a fare pace con la sua famiglia criminale, quindi torna a Berlino e incontra quella che sembra essere la sua sorella adottiva da una famiglia diversa, Katia, che accetta il reintegro di John solo a patto che lui uccida per lei un altro uomo, Chilla, che è un membro della Gran Tavola che ha assassinato il padre di lei. Peccato che Chilla sia un personaggio parecchio schillato. Nel momento in cui John si presenta da lui per ucciderlo, questi ha già invitato anche Kane e quindi avviene un super mega duello dove questo tizio, nonostante la stazza, picchia come un fabbro ferraio, però è John che ovviamente risolve tutta la situazione eliminandolo e quindi, grazie a tutto questo, può ottenere il reintegro all'interno della sua famiglia criminale e diventarne il rappresentante per il duello contro il leader della Gran Tavola. E quindi ora basta solo stabilire le condizioni del duello. Si sfideranno a colpi di pistola all'alba, al sacro cuore di Parigi e ovviamente il marchese non vuole sporcarsi le mani e ingaggia Kane di compiere il duello al posto suo. Però contemporaneamente inizia a pensare sai che c'è? Forse se riuscisse a sbarazzarmi di John prima del duello sarebbe molto meglio. Di conseguenza mette una taglia di 26 milioni di dollari sull'uomo e quindi tutti gli assassini di Parigi, anzi tutti gli assassini di Francia si coalizzano per eliminarlo e il povero John affronta una notte di inferno tra le strade di Parigi in cui ammazza centinaia di sicari. Torna in scena anche il signor nessuno di Osaka che potrebbe persino eliminare John se non fosse che John salva il suo cane e sappiamo che nella comunità degli assassini dell'universo di John Wick i cani sono fondamentali e quindi il signor nessuno rinuncia a eliminare John per riconoscenza. Nonostante le botte da orbi John Wick riesce finalmente ad arrivare all'appuntamento per il duello ma persino lui è completamente sfiancato e di conseguenza sarà Kane ad avere sopravvento al momento della sfida. Solo che il marchese quando vede John ormai a terra prende la pistola a Kane convinto di poter finalmente sferrare il colpo finale senza notare che John non aveva ancora sparato e quindi è John a sbarazzarsi del marchese. Missione compiuta John Wick è finalmente libero non ha più debiti è fatta il problema è che persino lui di fronte a tutto quello che ha dovuto affrontare non regge quindi dopo un ultimo pensiero alla sua amata moglie si accascia e nell'epilogo vediamo Winston e il re della Bowery di fronte alla tomba di John Wick seppellito accanto alla sua carissima moglie Ellen però non abbiamo visto la morte di John Wick non sappiamo cosa ci sia all'interno della barra e di conseguenza possiamo continuare largamente a dubitarne. C'è anche una scena post-credit in cui Kane ritornato a Parigi sembra finalmente poter riabbracciare la sua figlioletta se non fosse per la presenza di Akira vendicativa che vuole sbarazzarsi di lui dopo la morte del padre Shimazu e che sembra ben disposta a farlo. Spero che questo recapone vi sia stato utile ora tutta la saga di John Wick è finalmente disponibile qua sopra grazie di cuore a tutti voi per il sostegno che state dando a questo piccolo canale come sempre appuntamento al prossimo video.